Mauro Baccaglini, volontario dell'Associazione Verba, ha da anni organizzate iniziative, è stato organizzando le iniziative, una in particolare molto interessante che si tratta il 29 di novembre. Di cosa si tratta? Si tratta che grazie all'attenzione di una persona sensibile, la dottoressa Laura Tonatto, una delle creatrici più famose al mondo, con un gruppo di donne disabili creeremo un'essenza, creeremo un profumo e questo profumo ha un significato molto particolare perché va al di là della produzione di un'essenza ma è un percorso emozionale, un percorso di sensazioni che ognuna delle utenti percorrerà poi grazie all'alchimia della dottoressa Tonatto da questo riusciremo a creare un profumo. Con Laura Tonatto che ricordiamo è anche con lei che ha creato profumi per la regina Elisabetta, insomma non un nome da poco. Si, non è un nome da poco, infatti a noi questa idea è venuta proprio nel giorno in cui il TGR ha fatto un servizio sulla dottoressa Tonatto nel quale appunto si raccontava questa cosa che lei produce tuttora il profumo per la regina Elisabetta.